Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi spiegherò come per prendersi curare di un pesce rosso. Iniziamo. Consiglio numero 1. Teneteli appunto in coppia. Tenerli in coppia li favorisce più longevità nella loro vita, perché non durano poco e ne hanno già 3 anni. Consiglio numero 2. Non dateli troppo da mangiare, dipende da quanto vi dice il negoziante, di quanto potete dargliene, ma vedete anche i vostri pesci e quanto mangiano. Consiglio numero 3. Non picchiate troppo contro il vetro, perché sennò potete dargli fastidio e disturbarli. Consiglio numero 4. Non, assolutamente non toccateli. Toccarli magari non li fa benissimo, perché potrebbe danneggiare la loro salute, perché possiamo trasmetterle delle malattie. Consiglio numero 4. Cambiateli l'acqua almeno una volta al mese. Dopo vi farò un video come spiegare, come cambiare l'acqua. Consiglio numero 5. Non pensiate che durino poco, perché i miei hanno già 3 anni, campano benissimo, e esistono anche pesci che arrivano oltre i 3 anni, anche a 7 e a 10. Consiglio numero 7. Sette. Non teneteli in boccia, ma teneteli in acquari, perché stanno molto meglio. Ecco a voi la clip dei miei pesci. Loro sono Roxy e Perla e hanno 3 anni. Vivono da me. E allora, questo qua è il cibo che gli do il gol di spirulina color, che gli do 12, ed è veramente molto buono. Mentre, almeno per loro, io mica l'ho assaggiato. Poi, invece, questo qua è l'igienizzante che li metto quando li cambio l'acqua, che serve per uccidere i batteri. Ah, poi loro sono veramente molto agitati. E un consiglio è altro che vi do il filtro, mettetelo dentro, perché esistono anche dei filtri che si possono tenere anche fuori. Ma dipende da come vi dice il negoziante, ma vi consiglio di tenerlo dentro, perché esistono anche quelli che si possono tenere sia dentro che fuori. Ma non ve li consiglio. Comunque, questo video finisce qui. Io, Roxy e Perla, vi salutiamo. Se volete un video sugli animali, ditemi quali, che io ve lo farò. Ciao!